Assessore, un protocollo per il potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria Lucca Aulla, giusto? Un protocollo importante che consentirà di realizzare un piccolo scalo merci a Castelnuovo e consentirà quindi di spostare dalla gomma e quindi dai tir dai camion su ferro materiale per circa 3.000 mezzi equivalenti ogni anno. Quindi è in dubbio l'effetto positivo perché da una parte andiamo nella direzione auspicata che è quello di spostare oltre le persone anche le merci ad essere trasportate attraverso la ferrovia ma anche un effetto molto importante e positivo per quanto riguarda la sicurezza stradale e per quanto riguarda la maggiore fluidità di traffico nella strada regionale di Fondovalle. Quindi la linea Lucca Aulla oltre ad essere stata potenziata, ad essere stata riqualificata attraverso gli investimenti che ha fatto RFI in tecnologia e anche attraverso gli importanti acquisti di nuovi treni che ha fatto la regione e che ha consentito a quella linea di diventare dalle peggiori linee per quanto riguarda la regolarità, cosa che era nel 2013, a una delle migliori per quanto riguarda il trasporto passeggeri in questo modo si va affermando anche per quanto riguarda il trasporto merci perché i dati che ho appena richiamato sono quelli che sono stati dichiarati da aziende che si sono rese immediatamente disponibili a questo tipo di trasporto all'utilizzo del treno per le merci ma poi ci sono anche altre aziende della vallata che potranno agganciarsi a questo protocollo che rimane un protocollo aperto. Quindi direi veramente una soluzione importante frutto di una forte collaborazione tra le istituzioni locali, quindi i comuni, la regione e il ministero che danno una risposta importante per quanto riguarda il trasporto sostenibile. Possiamo quantificare economicamente gli investimenti sulla tratta degli ultimi anni da nuovi treni all'ultimo protocollo firmato questa mattina. Per quanto riguarda gli investimenti nell'infrastruttura che sono serviti anche per riadeguare la linea rispetto alle lesioni che aveva subito dall'evento sismico che c'era stato in quel territorio sono stati di circa 20 milioni. La regione ha acquistato treni nuovi che sono costati circa 4 milioni l'uno quindi parliamo di investimenti che non sono inferiori a 40 milioni. Direi veramente una cifra importante che dimostra come la regione in perfetto accordo con il ministero e con RFI crede nella cura del ferro, crede nella priorità del trasporto su ferro sia per quanto riguarda le persone per quanto riguarda le merci e in questo caso ha contribuito anche a rendere maggiormente sicura e transitabile la strada di Fondovalle.